punto sul 3 il 3 di philip watch vince sempre il 3 ha vinto sì philip watch shark 3 al quarza analogico ha tre anni di marcia continua philip watch caribbean shark 3 è un orologio nuovo dalle eccezionali caratteristiche di precisione e di durata in cassa acciaio acciaio e oro e tutt'oro philip watch caribbean shark 3 ha tre anni di marcia continua